Benvenuti a Rea! Forse non ne siete a conoscenza, forse non sapreste indicare questo paesino in una cartina geografica, ma Rea è il paradiso segreto di registi di film colossal, come Jurassic Park e Il pianeta delle scimmie. Altro che green screen, a Rea c'è tutto quello di cui si ha bisogno per fare un film di questo livello. Un bar, una chiesa e una scuola. Per i più piccini abbiamo incontrato il cast di Galline in fuga. La protagonista però è stata un po' timida. Negli ultimi anni Rea è diventata meta di registi d'essere che, scoperto il segreto, vogliono dare un tocco estetico alle loro pellicole. Rea è famosa, conosciuta per la luminosità, per l'intensità delle immagini. Vogliamo fare proprio un film con quest'area di arte. Chissà quale sarà il prossimo film a essere girato in questo paese. Per la visione completa del documentario, cercare su Google Vimeo la pagina Film Documentary Secret Elevation 1-2-3-4-4-3-2-1-slash-terzo-laboratorio-di-regia. All'alba quando spunta il sole, l'anello abruzzo tutto.